Al termine del vertice, previsto inizialmente per il 31 maggio e anticipato a questa mattina dal Ministero dei Trasporti in videoconferenze dedicato alla fusione degli aeroporti del Nord Sardegna sotto l'insegna F2I, le posizioni della Regione del Fondo di Investimento restano distanti. Il Presidente Cristian Solinas e l'Assessore Regionale dei Trasporti Antonio Moro, tramite una nota stampa, fanno sapere di aver chiesto a F2I di posticipare le assemblee degli azionisti convocate dalle società di gestione dei due scali di Olbi e Alghero per il 29 maggio prossimi per consentire di approfondire i dettagli dell'operazione, ma che F2I non ha accolto l'invito. La reazione di Solinas e di Moro è dura. Quando si vuole riprendere proficuamente un dialogo, è buona prassi sgomberare il campo da scadenze improrogabili, entro le quali si devono assumere le decisioni, scrive il Presidente. Diversamente, il perimetro, la qualità e gli esiti del confronto sono già pregiudicati da principio. Sulla stessa linea Moro, secondo il quale serve un tempo tecnico ad hoc perché il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana dalla Giunta regionale per affrontare gli aspetti dei temi della prospettata fusione, possa valutare tutta la documentazione e la Regione sia così in grado di esercitare i propri diritti con consapevolezza e attraverso una fase di studio importante. Al termine della notte il tono si alza. Prendere a sportellate la Regione, sottolinea Moro, è inaccettabile e non è rispettoso dell'istituzione autonomistica. E ci sorprende che lo faccia chi può contare su investitori istituzionali di primo ordine, come la Cassa Depositi e Prestiti e la Fondazione Sardegna.